Il prossimo numero necessita di una piccola introduzione. Vi chiediamo di fare silenzio assoluto. Trattenete quasi il respiro perché il prossimo concorrente ha bisogno di una grandissima concentrazione. Assisterete a un numero che sfida le leggi dello spazio e del tempo. Mi raccomando concentrazione e... ... 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